Siamo a sabato, sono le 15 ore 15 e abbiamo raccolto già 4 tonnellate di carta. Operazione scambio, perché operazione scambio? Perché facciamo lo scambio, facciamo un baratto con la ditta Ecologia e Servizi di Condito Cecilia, facciamo un baratto, noi gli diamo la carta e loro ci danno la carta igienica per la nostra scuola. 80 persone già stamattina hanno aderito e hanno portato 4 tonnellate. C'è tempo ancora fino a domani, fino alle 17, domani è domenica e allora vi invito a venire a raccogliere ancora più carta. Il nostro scopo è stato raggiunto perché facciamo questo grande regalo all'ecologia e un applauso va a tutti noi, ognuno di noi si deve fare un applauso oggi, perché anche chi ha portato mezzo chile di carta ha contribuito a questa grande manifestazione di ecologia, grande manifestazione di risparmio, perché anche il Comune, appunto il nostro Comune ha risparmiato, perché buttare oggi 4 tonnellate di carta significa che il Comune deve pagare 400 euro se questa carta va nella indifferenziata, ma questa carta verrà reciclata e appunto verrà fatta altra carta. Una grande manifestazione, siamo molto soddisfatti noi volontari, fatta insieme, ripeto, all'ecologia e servizi di Conto Cecilia e all'amministrazione comunale che colgo l'occasione di ringraziarla. Abbiamo raccolto appunto, ad oggi siamo a 4 tonnellate, quindi questo grazie anche all'amministrazione comunale, grazie alla disponibilità del nostro assessore all'ambiente, Raffaele Campagna e a tutti noi volontari del Centro Studi Ambiente e Ricerca Marino di Guardavalle. Ma un applauso grande, veramente, un complimenti meravigliosi vanno ai nostri bambini, ai nostri ragazzi della nostra scuola, del nostro istituto comprensivo Aldomoro, che hanno aderito, hanno sposato bene questa manifestazione, sono molto sensibili, più di noi grandi, quindi un grande successo, siamo molto soddisfatti, siamo stanchi ma soddisfatti. L'appuntamento è a domani e ci vediamo domani per poi sapere quanti chili e quanti tonnellate abbiamo raccolto. I premi, ci sono i premi, rinnovo, abbiamo tre premi, il primo premio chi raccoglie più carta riceverà un buono per due pizze o due panini con una bibita, ha scelto offerta dalla birreria Il Birbante, il secondo premio invece è una ricarica telefonica di 10 euro offerta dal tabacchino di Francesco Passante, gli eredi di Francesco Passante e del Bar Boomerang e poi abbiamo al terzo posto un kit scolastico offerto dalla Omen Service. Quindi grazie, grazie, l'appuntamento è per domani, grazie anche a Guardavalle Hollanne che è sempre presente con noi, quindi grazie veramente, grazie, ciao a tutti.